Sono Marco Branchini, conduco l'azienda di famiglia assieme a mio fratello Angelo, siamo a Dozza, conosciuta per lo splendido borgo medievale, ottimamente conservato, e i vigneti di Albana. Vitigno, molto importante, che è nel DNA di questo territorio e anche nel nostro. Ci siamo un po' lasciati condurre dalle naturali potenzialità di queste uve e abbiamo realizzato uno spumante millesimato metodo classico, un prodotto sicuramente originale che penso che renda onore a questo vitigno, a questo storico vitigno, e pregio al nostro lavoro. 1858 è il nome che abbiamo voluto dare a questo spumante e indica l'inizio di un percorso che la nostra famiglia ha intrapreso con divisione e fiducia per le potenzialità di questo territorio. Vi ringrazio e vi aspetto per, a questo punto, degustare questo spumante. Grazie.